Stalking nel codice penale, la pornografia minorile, questa è una vergogna. La soluzione, come dicevo prima, passa attraverso la realizzazione di nuove strutture e soprattutto facendo carcerare i detenuti all'estero. E adesso concludo, Presidente. Noi non abbiamo preso parte alla votazione dell'emendamento del Governo che trasforma l'illegito amministrativo del reato... Prego di eliminare immediatamente questi cartelli, prego commessi di rimuoverli. Senatore Bitonci, prego di non infrangere le norme di comportamento dell'Aula. L'unico risultato è che non si ascolteranno le sue ultime battute di dichiarazione di voto. Ha concluso? No, non ha concluso. Allora concluda. Grazie, grazie comunque e complimenti ai colleghi che sono la vera forza del gruppo del Senato che anche questa volta hanno dimostrato di non mandarla a dire perché le cose che diciamo sono chiare. Non vogliamo essere complici di questa abnorme manovra con tutti gli italiani compiuta da questa nuova pseudomaggioranza formata dal PD e dal Cinque Stelle, Cinque Stelle Rosse. La bocciatura del nostro emendamento per i pristinari...